domazzi dai numeri eccolo buongiorno Don Antonio bentornato ciao sono andato a cercare una frase facile che possono capire anche gli aspabeti come voi due grazie sempre buono va bene va bene vediamo se se la capite questa la 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 lancio a tutti in questo momento dimentica la persona con la quale hai riso mai quella con la quale hai pianto ma io l'ho capita l'ho capita l'avrei detto comunque Don Antonio per non fare figuracce Don Antonio mi raccomando ci dobbiamo dare anche un appuntamento perché da qui a Natale visto che è in uscita il libro di Don Antonio Mazzi con la raccolta dei pensieri proprio di questo anno abbondante ormai passato insieme ho preso meglio quelle più facili quelle più facili per noi insomma per farli capire anche a a noi due in alfabeti giusto si intitola Don Mazzi dei numeri immagino no? ovviamente certo certo sono capace solo di dare i numeri Don Antonio però ci devi venire a trovare qui in studio eh preso l'impegno fra qui e Natale ci troviamo sì sì dobbiamo vedere assolutamente va bene e anche varie persone serie ciao ciao grazie buona giornata